Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Pensioni arriverebbe un bonus per chi rinvia l'uscita dopo i 63 anni. Vediamo insieme i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Altri 5 miliardi per quanto riguarda le pensioni e il fisco saranno utilizzati, secondo le ultime notizie, dal governo per prorogare le misure di flessibilità in uscita sulle pensioni che sono in scadenza il 31 dicembre come quota 102 opzione donna e ape sociali. Inoltre si vorrebbe portare la flat tax con una liquota agevolata al 15 per cento per le partite IVA fino a 100 mila euro di ricavi e o sui redditi in più dichiarati rispetto al triennio precedente. Un decreto legge che accompagnerà il disegno legge di bilancio dovrebbe poi portare anche delle misure per quanto riguarda la sanatoria sulle cartelle esattoriali del saldo estralcio, ovvero la cancellazione di quelle di piccolo importo. Inoltre, come dicevamo in apertura di video, si starebbe pensando a un meccanismo per incentivare la permanenza al lavoro degli over 63 attraverso un sistema di sgravi contributivi a favore del lavoratore in modo da farlo andare in pensione più tardi. Inoltre, come dicevamo nei precedenti video, potrebbe arrivare un nuovo bonus per quanto riguarda l'energia con il governo che potrebbe stanziare dai 15 ai 16 miliardi per carmirare le bollette di gas e luce per le famiglie e le imprese e per altre misure contro il caro energia. Come dicevamo nei precedenti video, questa manovra di 15 barra 16 miliardi coprirà la gran parte delle risorse che il governo può stanziare in questo momento. Proprio per tale ragione non dovrebbero arrivare importanti novità per quanto riguarda le pensioni. Infatti, come dicevamo, si parla di proroga nel 2023 delle misure attuali, ovvero quota 102, opzione donna e ape sociale. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.